Buongiorno, come Sister Geosmart Lab, Laboratorio dell'Ariente Alte Tecnologie dell'Emilia-Romagna, siamo partner di Ravenna 2019, l'evento portato avanti con Labelab sulle tematiche ambientali e dell'innovazione di come il territorio cambia. Quest'anno porteremo un progetto insieme a loro, For Italy, che inquadrerà attraverso le tecnologie delle dashboard, dell'incrocio degli indicatori di dati, come il territorio si modifica, cambia e quindi porteremo nuove letture di quali sono i territori più innovativi che rispondono meglio alle esigenze dell'Italia del domani.